I diari sono atlanti, sono rose nei venti, sombrezze silenziose di cose, 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 bianche, lavate, in vento trasformate, un vento fatto d'anime, disciolte nello scrivere, senza più alcuna traccia di colore, di essenza, che carezza la faccia con la pura esistenza, un vento trasparente di ore, di sere, passate inutilmente, meravigliosamente, su pagine leggere, scritte, trafitte, spalmate in righe dritte, di calendari vivi. Giovanna cosa scrivi? Ho scritto per lavare, ho scritto per schiarire, per fare, disfare il passato, avvenire, per dire le mattine, per capire perché, tu mondo senza fine, ricordati di me. Voi scrittori nel vento, o cugini, o fratelli, o perdute da tanto adorate sorelle, quei diari sono un dono, un perdono di eroi, perché io so chi sono, perché io sono voi.